Caro il mio renegade Sputnik, la stanza sta prendendo vita ed è sempre più carina e accogliente, vero? Mi raccomando ragazzi, quest'oggi iniziamo già con i guai, un'ora di atterraggio all'autorità, il centro della mappa, dove un tempo c'era l'agenzia e dove adesso tutti quanti vogliono andare, perché hanno rimesso ovviamente la drum gun. Mi raccomando, vi stuferete di sentirlo dire, ma se acquistate qualcosa del negozio di Fortnite, utilizzate il codice creatore Stepney e taggatemi su Instagram, spolliciate, commentate e iscrivetevi alla campanellina, io vi auguro una buona visione. Bene ragazzi, questo è Stepney e bentornati in questo nuovo video della serie di Fortnite, capitolo 2, season 3, ci siamo carichissimi, questa è la skin che utilizzeremo quest'oggi, Ocean si chiama, guardate che figa, le ho messo le ali, il deltaplano meteorite da cavalcare, e si vola all'autorità, per un'ora intera impazziremo cercando di scoprire tutti i segreti di quel posto. E questo direi che è un buon metodo per iniziare a capire dove è meglio atterrare e dove è meglio non farlo. Ora che siamo riusciti finalmente a fare una vittoria reale in questa nuova stagione, è arrivata anche abbastanza in fretta, siamo pronti per le challenge più particolari. Comunque ho scoperto che il due colpe adesso fa davvero molto più danno rispetto a prima, a parte in headshot che ne fa molto meno. Dai che tanto prima o poi dobbiamo riuscire a sopravvivere, magari non sarà il primo atterraggio, non sarà il secondo, non sarà il terzo, il quarto, il quinto, magari il settimo sarà decente. Che figo però guidare così il meteorite. C'è pure l'elicottero, è la peggiore dell'ipotesi raga possiamo scappare, non dimenticatevelo, devo essere il primo a entrare qua, il primo, il primo, il primo, ok? Dov'è il tizio? Sopra di noi? Easy, scendo eh, io scendo, sento già gente vicino, qua è passato qualcuno, eccolo. Oh, adesso è un casino però, mi serve un medikit subito. Io dove caspita lo trovo un medikit raga, c'è un medikit, no way. Scendi, scendi, veloce, che adesso ci curiamo in tutta la calma del mondo. Anche il chug splash, back in business! È figo però che ci sono vari posti qua dentro in cui ti puoi nascondere, mi piace dai, mi piace come atterraggio. Dov'è il vault? L'hanno già aperto? Oh, cavolo! Eh vabbè, raga, mi ha distrutto. Mi ha distrutto raga, cioè, com'è possibile che faccia tutto questo danno? Non voglio morire qua. Oh, guarda, c'hanno degli scudini. Adesso è troppo tardi. Non stanno cercando me? Non lo so. Sì! Ma è possibile che senti le persone solo quando ce le hai appiccicate alla schiena? Abbiamo uno strano rapporto con i boss di Fortnite. Ogni volta che li incontriamo le cose vanno male. Però, ok, ci stiamo solo riscaldando. Tranquilli che oggi non perderò la calma né la pazienza, perché con un posto nuovo è normale non trovarsi bene. Noi dobbiamo trovare il modo per affrontare bene l'authority. Qua c'è una cassa, se ci sbrighiamo magari. Ok, buono. Ragazzi, ho caga che mi compaia uno dal niente. A punto. Eeeh, va bene! Io... Ma come si fa? Ma io ho solo un fusce d'assalto! Ma questi hanno sempre il pompa! E ce l'hai il meteorite da cavalcare, eh? Stupida Bibby che fai a giro con l'ombrellino regalato. Ok, basta fare gli scemi. Quel fusce d'assalto ce lo scordiamo. No, era buono, il tizio era corto. Abbiamo un fusce a caccia, abbiamo anche un pompa adesso. C'ho paura che qui arrivano da ogni dove, eh. Ma voi non vi rendete conto? Mi spuntano come i funghi. C'è qualche nemico qua. Ma quello è un nemico? Casa. Eliminato. Facciamo una transizione, eh. Perché no? Almeno non ci sparano i bot. Lui spara sopra. C'è uno su... Ce ne sono due su. Sono due, sono due, sono due. Arrivo. Sto salendo. Con calma. Casa. Eliminato. C'aveva anche il launchpad. Si stanno distruggendo. Ma che succede? Ma è sotto di me? Per ora siamo vivi, raga. Non male. Non so ancora dove si trovi di preciso il boss. Oh, c'è una mitraglietta leggendaria qua. Ma sapete che possiamo iniziare a rifare la Delta Plano Challenge, secondo me? Forse non l'ho detto veramente e non mi rendo conto dei danni. Però vabbè. Tu ti ammazzo, riesco? Riesco a farti fuori? Va bene tutto. Però una morte del genere. I boss li hanno fatti troppo forti. Comunque io credo che la mia strategia di atterrare per un'ora intera in un posto sia il metodo migliore per odiare quel posto per sempre. Arrivo sempre abbastanza bene qua. Il discorso è che mi fregano. Guarda, guarda che sfiga. Fuori c'era un fucile a pompa. Oh, ne ho trovato un altro. Va dietro. Ciao, bello. Ok, l'ho fregato questo. Stavo per morire, raga, eh. Quando uso questo fucile a pompa nuovo è pericoloso. Dai, è di cassa. Ok. Questa è molto, molto buona. Un'altra nota negativa è che non ci sono tanti materiali qua. Anzi, davvero pochi. Guarda là sotto. Ehi là. Questo lo prendo io, se non ti dispiace. Prendo anche questo. Abbandoniamo. Oh, eh. Oh, no, no, no. Oh. Ignoriamoli. Ignoriamo i bot. Non portano niente di buono. Guarda, mi ha ricolpito. Medikit, grazie. Oh. Questo qui però è epico, raga, eh. Lo uso. Lo uso epico. Vediamo cosa fa. Boom. 120 da qua laggiù. Beh, non è male. La cosa buona è che hai sempre il caricatore pieno. Ok. Questo lo abbiamo dilaniato. Sopra di me c'è il boss. Ignorare. Ignorare completamente. Oh, no. Eh, vabbè, incredibile. Atterra il boss. Finalmente. Sì. Cosa? Ce l'ha lei rampì. Oh, mio Dio. Ecco perché c'è tanta gente, raga, qua. Beviamocela con tutta calma. Che siamo ancora vivi. Oh, trovato. Eh, se n'è andato, raga. Disgraziato. No. Ah! Ho bisogno di un Medikit, raga, aiuto. Se si affaccia è morto. Cosa? Chiudi. Sta arrivando là. 30 di vita? Davvero? Comunque, Jules, che ha sia il rampino sia la drum gun, è il personaggio più ricercato in assoluto, credo. E adesso è andata molto bene. Se avessi trovato un Medikit, sarei sicuramente sopravvissuto. C'è anche un pompa. Ok. Se arriva uno qua dietro, lo facciamo fuori, eh. Scudini. Easy. Scudone. Easy. Ma guarda che lavori. Ma! Ma! Ah! Oggi non ti arrabbi. Hai detto che stai calmo. Non ti arrabbi. Può togliere 24. Un fucile a pompa blu. Oh, mio Dio. Ah, non mi ero reso conto. Dirty Docks non esiste più. Vabbè. Come la maggior parte, in realtà, della mappa. Io faccio sempre la mia rotation qua, sperando che porti dei risultati. Speriamo. Una pistola. Ok. Devo scendere subito e sparare. Senza aprire la cassa. Così. Scendi. E spari. Questo è morto. Bravo, bravo, bravo! Oh! Sì, ciao, beh. Eh? C'è un pompa? Casa? Medikit? Sì! Ok. Bella, bella, bella. Siamo salvi non so come. Quello che cos'è? Un P90? Molto, molto buono. Aiuto. Fammi entrare. Fatemi entrare. Oh! Cosa? Non so come faccio ad essere vivo, raga. Non scherzo. Via! 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 Fuga! Siamo vivi! Incredibile. Non faccio mai essere ancora vivi, ragazzi. È assurdo. Ho preso. Se arriva è morto. Sì? Doppio scudino. E adesso come ce la gestiamo? Non ho idea. Zitti, zitti. Noi ci siamo portati a casa uno scar, eh. Vorrei dire. È un nemico. È lì. Forza! Mi ha preso lui. Ma renditi. Oh, questi? Mangia, mangia. Ehi. Buonissimo. Peperoncino, mangia, mangia. Via, 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 via. Raga, sto reggendo l'anima coi denti. Due! Come? Dai! Ma non ci posso credere mai. Come fa la gente a avere 100 scudo qua in questo posto? Io non lo so. Indovinate un po'. Dove atterreremo? Se non all'agenzia. Volevo dire all'autorità. Buon. Siamo i primi. Buon. Pompa, anche se scrauso. Buon. Veloce. Faccio finta di non avere armi. Ce l'ho, in realtà. E' qua il tizio. E che vuoi da me? A casa. Prendo l'altro pompa, eh. Cioè, non giudicatemi. Ma preferisco. Ma dov'è? Casa? Abbiamo due kill. Siamo ancora vivi. Il tizio c'aveva il pompa questo qua. E non ha potuto fare niente. Guardiamo giù cosa c'è. Oh, oh, oh. Uno scar, raga. C'è uno qua davanti a me, eh. Sì. Ovviamente è scudato. Se lui scappa, io prendo lo scar. Ciao. Scar vuoto. Mannaggia la miseria. Che sfortuna. Hanno aperto il vault? No. Che è sto rumore? Un po' pensavo di sapere. E mi ritrasformo perché va via in continua. Ragazzi, ma da dove è uscito? Ma scusate. Aiuto. Puoi farne fuori due, tre, quattro. Non importa. Mi arriverà sempre uno che ti farà fuori. È allucinante. Spariamoci sto scudo. Fuori si ammazzano. E noi purtroppo siamo qui a non far nulla. C'è un pompa. C'è un pompa, raga. Mio. Mio. È mio. Tutta roba mia. Sì. Oh. Bello il tuo fucile a pompa, sì. Tanta roba il tuo fucile a pompa. Scar? Grazie. Oh, l'ho trovato. Ho trovato anche l'assalto leggendario. Sarà che forse riusciamo almeno a sopravvivere? Almeno. Occhio, raga. Non facciamo movimenti troppo bruschi. Qui è un attimo, ti compare una persona dietro, non te ne accorgi nemmeno. Ehi, là. Ma che cosa? Ma che cosa? Mi ha quickscopato. Questo con venti di vita mi ha quickscopato. No, eh. Oh mio Dio. Questo con venti di vita prova il quickscop. Oh mio Dio. No, te lo giuro, Sputnik, è impossibile. Dai, prova tu. Voglio vedere che combini. Dai, sono curioso. Dai, avanti. Ma come dici che non ti stanno le cuffie? Dai, faccio io allora. Non preoccuparti. Certo che un lama qua all'autorità potrebbero anche farmelo trovare, eh. Sono proprio tirchi. Buono. C'è un tizio che sta arrivando. Dove vai? Mi fai scappi? No, no, no. Qui sei disgraziato? Questo lo prendo io, eh, se non ti dispiace. Qua ancora non sono venuti. Uh! Best spot ever questo. Raga, prima ci ho trovato il vamp, adesso il P90 leggendario. Mamma mia. Ha aperto la cassa sopra? Mi ha colpito. Vieni, vieni. Se mi uccideva era il colmo, eh. Ok, ok, ok. Calmi, calmi. Buono. Tutto alla grande adesso. Buono. Buono. Qua giù si spalla. Uno ha provato a check-inarmi da dietro, raga. Eccolo che arriva. È un bot. È un bot. Oh my god. Oh mio Dio, sto per morire, raga. No. Io! Ok. Prego, dammi la kill. Cosa? Quell'altro sotto mi ha pushato. No, 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 no. Io non ci sto. Ma rimangono tutti i conventi di vita. Cos'è che avevo detto? Non ci arrabbiamo, non perdiamo la pazienza. È impossibile. È ufficiale, ragazzi. All'autorità troverai il rampino, troverai la drum gun. Ma è l'inferno fatto ad atterraggio. Così per un bel po' di tempo non ci andremo. Facciamo che questo potrebbe essere l'ultimo tentativo ad esposession. Ah, qualcuno atterra meglio di me. Sì, a te piacerebbe, bello. Sormeio, sormeio. No, 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 no. Non mi dai un'arma. No, no, disastro. Siamo morti. Siamo vivi, siamo vivi. Oddio, scar. Eccone uno. Ucciso. Un altro. Oh, c'è una... Oh my god. No. Ti piacerebbe sfuggirmi, eh? Ripadda, bravissimo. Preso. Preso, raga. L'ho preso al volo. Non ho tempo. Non ho vita. Non ho niente. Caccia, eh. Che me ne fo? Ah, qualcuno ha già preso il rampino. Bene a sapersi. Lasciatevi in pace, scudo. Davide lo scudo. Oh! Ma! Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Io non ho sentito. L'ultima è sempre la penultima. Questo vale anche per la stagione nuova. Ecco, quindi ne facciamo un'altra. L'ultimo tentativo a disposizione. Più volentieri atterro qui al ristorante di Craigie Cliff che è ancora anacquato. Ma scusate, al De Grotto quindi cos'è successo? Che bella idea che ho avuto, ho già da dire. Sto iniziando a scoprire il mio trucchetto? Ma io arrivo prima, bello. Io arrivo prima. Non puoi fregare me. Sì, sì. Prenditi pure l'elicottero. Sai quanto mi interessa? Guarda, guarda. Io ho già quello che voglio. Andiamo. Casa. Ciao, casino bello. Scudi. Oh mio Dio. Raga, questa è un'occasione che non posso farmi sfuggire. Non sto scherzando. Eh, lo so. Avrei dovuto aspettare, ma... Sti cavolo. Se arriva qualcuno muoio come prima, non mi va. We got this. Qua non è ancora arrivato nessuno? Buono, buono. Meglio così. Sa che qualcuno ha aperto il bo... Oh mio Dio, no. No, dai! Sto nachos maledetto! Basta. Non ho mai superato il perimetro delle mure esterne. Cioè, capite? La difficoltà estrema. Mi raccomando, se andate all'autorità e sopravvivete, taggatemi su Instagram con il codice creatore Stepney. Io vi saluto, scrivetemi nei commenti dove fare il prossimo video a terra per un'ora qui, per l'appunto. Spolliciate, commentate e scrivete la campanellina. Ci vediamo al prossimo video. Questa è per tutto. Fare! Dove sei? Quanto ho bisogno di te! Dannazione! Quanto ho bisogno di te!